Una persona agli arresti domiciliari e due all'obbligo di dimora. Questo è il bilancio di un'operazione dei carabinieri del Nassabruzzo di Pescara che ha portato a contestare agli indagati i reati di falso di prescrizioni mediche per l'acquisto di sostanze dopanti utilizzando timbri e ricette che erano stati sottratti ad un medico di Montesilvano. La raccomandazione che facciamo, non possiamo mai smettere di farlo, è quello appunto di tutelare innanzitutto la salute dei ragazzi perché i ragazzi nell'assumere queste sostanze rischiano davvero, rischiano delle malattie gravi come anche forme tumorali e rischiano appunto di incappare in effetti collaterali che possono essere a breve termine ma anche a lungo termine. Oltre a questo ci sentiamo insomma di consigliare anche i genitori di questi ragazzi di essere attenti ai loro figli, a cercare di capire le frequentazioni che hanno, di cercare di capire le esplosioni del corpo, del fisico, se siano legate realmente a un sacrificio perché per arrivare a una forma fisica smagliante bisogna impegnarsi e bisogna fare attività sportiva per anni, non per mesi. E quindi anche per noi è importante le segnalazioni che ci arrivano appunto dal mondo dello sport ma anche dai genitori, dalle famiglie. Ci sentiamo di consigliare appunto di essere nostri complici nel denunciare per poi farci arrivare insomma ad attività che poi sono attività investigative e quindi al togliere dal mercato grossi quantitativi di sostanze dopanti e anabolizzanti. Grazie a tutti.